Un tribunale argentino ha sospeso il pacchetto di riforme del lavoro annunciato dal nuovo presidente del paese, Javier Milei. La sentenza blocca temporaneamente l'applicazione di oltre 300 misure volte a deregolamentare l'economia del paese che è in caduta libera. Il decreto aveva già scatenato proteste, il provvedimento comprende modifiche alla tutela dell'occupazione, come le condizioni di licenziamento e le indennità di fine rapporto. La Confederazione Generale del Lavoro sta pianificando uno sciopero nazionale per la fine del mese.